Buongiorno e benvenuti agosto 95 Ieri sera stavo guardando Intervista col Vampiro Spenendo film uscito nel 1994 con il protagonista Brad Pitt e Tom Cruise E in seguito Antonio Banderas Mi sono accorto che Tom Cruise, scusate Brad Pitt Quando incontra Antonio Banderas Che fa quel trattino Che fa quel trattino con l'omicidio Perché non sanno che quelli che non stava recitando avviene un omicidio Però mi sono accorto che molti, molti personaggi del circo Assomigliano ai volturi di Twilight E dato che Intervista col Vampiro prende spunto da un romanzo Allora Dato che Intervista col Vampiro prende spunto da un romanzo La scrittrice di Twilight Secondo me si è ispirata molto, ma molto a Intervista col Vampiro Lo vedi dall'apprenditura di Antonio Banderas E il capo dei volturi Guarda Tom Cruise Tom Cruise Ricorda esattamente Edward Cullen Per il modo Ricordate Ora ti darò la scelta Che a me non è stata mai data Perché Edward Cullen Aveva la spagnola La febbre spagnola E Il padre Perché diventa il padre Di Edward Cullen Si Il padre di Edward Cullen Li infligge questo valeno E poi Si Diventa Vampiro Non lo so Secondo me E' giusto indegare Perché Secondo me E' giusto Indagare Perché Sono troppe coincidenze Che Anche Il pensiero Di Brad Pitt Quando diventa Vampiro E O Anche Noi umani Loro umani Interviene Questo Antonio Bandeas Che Comunque Sente Cosa Provano Gli esseri umani O i vampiri Altra cosa Dei volturi Secondo me E' E' Uno spin off Dei volturi E' Intervista Col vampiro Questo Senza dubbio Vabbè Questo Questo Senza dubbio Spero di avervi Tenuto compagnia In questi 4 minuti e 30 E Iscrivetevi E Vi dico Gli altri siti Dove Potete iscrivermi E Se volete Fare due chiacchiere con me Ciao Noi Noi E I Grazie a tutti